musica 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 e una volta usciti ma perchè e perchè c'è quel segno la non lo so c'è un segno boh non capisco allora vediamo ah qua recupero l'antica ah sto vicino ah alfdad 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 i nani di tamriel scomparvero migliaia di anni fa e si presume siano estinti i nani però i nani lol che pariata se c'era il personaggio nano me l'ero costruito già ma che figo il personaggio nanetto cioè ok qui dentro ci deve essere qualcosa e infatti io c'ho ragione media porca oddio solo due grimaldelli ho perso non ho grimaldelli dio et voilà ti prego dammi dei grimaldelli eh un gotto di ferro no oro zaffiro anello d'oro con zaffiro lo prendiamo perchè noi siamo persone brave e non lasciamo nulla al caso ma qui non c'è un cazzo possibile boh ma dove cazzo è? ah eccolo là no ah vedi sta qua sotto e noi ora facciamo il salto un salto alla jumanji verso rovine non ho letto il caricamento un bel dilemma dovrò tagliarli tutti sti carinamenti fa un pochino freddo allora iniziamo a cacciare le nostre armi siamo anche da soli quindi dovremo cavarcela da solo né senza senza quella lingotto di metallo nanico lo prendiamo dovremo cavarcela senza né lydia né qualcun altro non vedo l'ora di finire il gameplay così prendo mi sposo con quella figona mamma mia check on il bowl poi vedrete ok primaldelli vedrete con chi mi sposerò penso due vai prendiamolo perché tanto noi possiamo questo cos'è? sangue? no è olio credo olio qualche materiale strano questo cos'è? bottia di vino vuota no chimaravidum non ci ha dato niente quindi te lo puoi tenere ho dimenticato anche di dirvi che mi sono aumentato la casa cioè l'ho po' ci ho fatto un bel po' di soldi e me la sono potenziata al massimo non tengo tutti gli oggetti possibili inimmaginabili qui non c'è un cazzo e ora noi dovremmo uccidere qualcuno qua mi lagga un pochino cerca nel ragno nanico dove cazzo è quello che dobbiamo uccidere? mi sa che sta qua si si dovrebbe essere qui credo dio che è? ah ecco non mi rompe la mente non mi rompe io sono forte nessuno può dirmi cosa cosa devo o non devo fare allora vediamo ragno nanico gemma dell'anima minuta ragno nanico gemma gemma ma questi come cazzo lo usavano? se lo bevevano come acqua? vedete ste gemme qua gemme ragno allora qua a me sa che non si può andare quindi dobbiamo andare per forza addentriamoci dentro queste canzoncine chi è? eccolo ragno nanico operaio e lievata madonna lievata mamma siamo diventati più forti con l'ultimo aggiornamento con l'ultima abilità volevo uccidere anche qua che c'è? che c'è? ah no forse di qua dobbiamo andare non lo so si infatti di qua si però porca miseria non si vede niente non si vede niente si dobbiamo andare qua giù però prima andiamo qua per vedere per vedere che non c'è niente per constatare effettivamente che qui è vuoto boh chi è? chi è? mi fanno cacare sotto perché spuntano all'improvviso fermati ingranaggio di sta minchia la torcia te la puoi tenere qui c'è del sangue e questo chi è? altro dei pelli liscia in cerca di cibo ma costui non era intrappolato con noi hai scelto un prossimo momento per smarrirti Jadar sei morto Jadar vediamo se cerca Jadar pozione di occhio gli archi infliggono ok cura minore ok fai a legna te lo tieni a ilmo te lo tieni chi è? quest'altro Jazar Jazar Jadar questo è nettare della forza vabbè dai prendiamolo cerca in Jazar qui che c'è? se gli amici si devono qui che c'è? oh oro vabbè che siamo abbastanza ricchi però vabbè non ci fotte perché l'oro fa gola a tutti questo cos'è? forse oh go Jazar cerca nel ragno nanico no qui se moriamo mi sa che perdiamo tutto sedia di pietra siediti ma poi non ti fa male il culo su quelle sedie di pietra qui nell'urna non c'è niente ah mi sa che da qua esce qualcuno ora e infatti infatti eccoli gli stronzi eeeh vabbè ma questi sono cazzuti però come faccio e va a fancù e va a fancù va a fancù e va a fancù e va a fancù vedete che se mi trasforma in lupo mannaro eh qui vi faccio il culetto sai sì però a livello di C9 anche questi sono fori porca miseria che cazzo pensavo di essere il dio il dio sovrumano e invece mi date del fio da torcere anche se io sono dio però vabbè questa che serve? ah niente solo fondo di illuminazione queste cose che si alzano praticamente inutili noi andiamo qua ora succede una trappola no non succede niente ah pensavo che mi volevano uccidere oh il logo da qua esce qualcuno guarda perché si vede tutto da qua esce qualcuno di sicuro anche da qua da qua anche da tutte le parti dai non saltarmi addosso che me fanno schifo ragni a me dai fe dai ciongo ciongo pesce a paulio cerchi che granato olio non mi serve questo e mi serve ora mi facciamo una bella cosa allora dov'è l'ume di candela l'ume di candela ecco fate pesce a paulio ragno nanico mangio un cazzo così almeno abbiamo un pochino di illuminazione in più anche voi da casa riuscite a vedere meglio basilare eh ah sai grimaldelli eh abbiamo aperto il basilare cazzo baule se eh ma qua ce li danno ok baule collana d'oro ingioiellata guarda adesso questa è media ci dovrebbe essere anche una difficile no non c'è apriamo questa media vai hai va fan cool hai va fan cool ok bravo questi che sono la resistenza al fuoco aumenta eh ma si dai prendiamola casomai ce la vendiamo e se no apri porta se no ce la distruggiamo per farci i nostri pantaloncini oddio guarda quanta gente qua popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Cerca nel baule Piatto due emer Dueve Eh due emer si Che lancio eh ragazzi Questo è Poi è un fuoricampo E muori La magia non serve un cazzo Non serve la magia guarda Quanto è vera la miseria La magia non serve Io non ci vedo Chi è oh Sì ma io non ci vedo però Tengo Qui non c'è un cazzo Ah bella pozione Bella pozione Torniamo in madre patria russia Quello ora apre la porta E ci sputa In faccia Non mi saltare in faccia Che ho paura No Giroscopio Non ci serve Prendi la Quel nettare là Che bene Buono Ah ma mi sa che noi dobbiamo continuare di qua Lì era solo una porta Per Vai apriamo la porta E ora ci troviamo Tutto le Ma che è Mannaggia Vai Vai Non mi Mamma quanto è bello Attacchi troppo veloce A me ste cose non mi piacciono Non so se ci siamo capiti Non posso manco rubare niente Che fanno tutto schifo Ok almeno il baule è aperto Corazza Corazza Che corazza De pelle Sai dove te la metti la corazza di pelle Ma sai dove te la metti